A Picerno con Raffià, out, Mora, lessione al flessore, ne avrà per 20 giorni, ancora a riposo Cancellotti e Vergani. Il terzino accusa una contusione al ginocchio, nulla di preoccupante, potrebbe farcela in caso di forfè pronto Crescensi che torna a disposizione dopo la scolifica. Attenzione però a Pellacani, subentrato proprio a Cancellotti nell'ultimo match con risultati senza dubbio apprezzabili. In mediana ha scontato il rientro di Raffià, Palmiero play, Craia favorito su Aloy che è diffidato come Palmiero, dunque entrambi a rischio. Va tuttavia ricordato che le diffide nei play-off saranno azzerate, ma se a Picerno in caso di utilizzo Palmiero e Aloy venissero ammoniti, salterebbero la prima dei play-off. Davanti inamovibili Merola e Lescano. A sinistra, probabile conferma per Delemona che è in vantaggio su De Sogus e Colai. Sfida decisiva per il terzo posto finale, attualmente occupato dal Delfino che ha tre punti di vantaggio su Picerno e Cerignola. Ergo ai Biancazzurri è sufficiente il pareggio. In caso però di KO, lo scenario peggiore, l'undici di Zeman chiuderebbe al quarto posto o addirittura al quinto, causa classifica Vulsa, se il Cerignola dovesse espugnare Castellammare di Stabia.